Ciao a tutti ragazzi, sono su un modissimo video di Minecraft Come c'è la bussa? Perché sono andato a trovare un villaggio E ce n'aveva uno E ho detto vabbè dai me la prendo Tanto non l'ho craftata io Perché non c'ho più il cavallo E' morto Uo mi ha fatto morire Mi sembra di aver esaltato un piramide Allora l'ho collegato Cade nell'acqua E mi arriva la notifica Il cavallo è annegato Lo so E' successo qualche giorno fa Quando non era un video Se vi chiedete perché c'è ancora qualcosa Stendata perché E ho fatto un video in cui io Mi ho sconfitto uno di quelli lì Se no l'avete visto male Qua c'è sole Che corino Poi qui altro Sole, torno Dove hai finché? Finché? Cacca per la vita Per la vita Dove hai finché? Sole torre Ma dove è? Raga dov'è? Sì, è scomparsa finché Torre Che cosa è successo? Che cosa è successo? È scappata What the fuck Oddio Ma cosa è successo? Eh, mi ha rubato Pinky No, quello è lui No, lui è torre Torre c'è Sole presente Pinky Oddio Non c'è cosa che come potete vedere Di sopra neanche No, raga Raga, ma no C'è anche un biglietro Anche qua Aerobrine Fulmini What the fuck What the fuck What the fuck No, non è normale Cioè, ovviamente Noi facciamo la nostra pescata al giorno Perché quando è che non l'abbiamo fatta Ovviamente è un bultissimo questo Ma no Mi spiace Vabbè 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 Vedo se la nostra farm Sta funzionando Ovviamente No Boh, avrò fatto sponare Uno scritto Basta Sta a farm Uno Non di più e non di meno Uno Porca che la trota Quasi, io, ragazzi Devo aggiustare Sto arc Quindi Crostiamo C'è un altro Dove sono le corde che c'avevo? Porca Quelle trote Le corde Legno Stick Bagno qua Arco Eh, dov'è Arco Arco Costa 18 Costa 3 E' sempre uguale Eh? Io lo sto facendo un video Qua non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Devo mettere Ci buttiamo anche il pano Del panino Per sicurezza Questo qua Dopo Questo qua Devono trafumare Quindi la mettiamo lì sopra Poi questo qua Qua Sì Ovviamente Anche la pietra Mi posto la pietra Direi che la cancieremo Quante belle Di finocche Forte Eh, watta bella raga Chesso 5 Cinco in Vennaro Un.com comunque raga devo mettere quel letto perchè mi dà veramente fastidio ehi mi dà fastidio per te raga lo so lo so che il posto in cui c'è la mancina e tutto quello che vuoi ma perciò no cosa è che la protezione del fuoco 5 è infinito 1 raga non so dove metterla c'è ovviamente la metterla non c'è niente non c'è scopo non c'è più oltre ma ok 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 la camera di andrea raga non so se avete sentito quello che ho sentito io ma non l'avevo appena detto la camera di andrea abbastanza posto qua raga qua ci muoccano più veloce queste cose se non mi sbaglio mentre che si fa buio io andrei a mettere questa roba qui è tipo dov'è e qua io raga come spero che abbiate capito ci possiamo anche non evitare per un pezzo di polmia che è nulla soltanto per questo qua per un pezzo di polmia che posso farci che non sia tipo così ecco fatto bello eh questo non serve un però c'è una sella che me l'ha droppata quando è morto il cavallo in 3 secondi andiamo a letto perchè si così la pioggia dovrebbe anche smettere oh la pioggia ho detto di smettere cos'è che vuoi il ballo della pioggia? ballo della pioggia ecco che sto smesso cos'è il ballo della pioggia mentre noi andremo a cercare anche un altro cavallo che raga direi che di grano ne ho un pochino quindi andiamo a fare riprodurre anche le pecore perchè sono veramente poche e allora adesso oggi noi andremo a fare riprodurre anche le pecore ovviamente le pecore e non le mucce che raga lo so qua forse quando non sarò in video andrò a fare ancora il recinto per le mucce poverè ci ha robato anche le pecore però è una cosa bella vorrei un lato positivo in questo recinto io ci posso mettere quelle due mucche e finalmente ci avrò l'animale che voglio vieni vieni mucchino mucco una bella 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 proviamo vieni qui dopo capri mi accompagni scegliamo gli sciampi aggiungiamo per te vieni mucchino e anche angelo c'è uno per te e uno per angelo vieni vieni mucchi e mentre che voi due vi rifugiate io vi chiedo vi salvo un blocchio porca che quella tratta non so vi salvo due uno due uno una raga che per blocchi per l'altro non 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 un pochino di grano comunque non fa bene proprio ovviamente loro io ogni giorno avevo scelto lui succede una colpa mia va bene sono meno crude oggi in sto video andiamo a cercare un cavallo perfetto per me andiamo avete visto raga che è salto cioè 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 perché che ragazzo proprio mucche perché mi serviva il cuoio perché mi serviva il cuoio perché devo farci delle robe con la raga col cuoio raga raga soia sto facendo un video dai luca basta è scappato ci mangiamo tutti i picchini questo video ti ho preso un cagnolino dove sono ite le forniche? dove sono ite? sono ite al vallo? al bagno sono ite al bagno sono ite al banno non sponano più cavalli, non ha modo, non sponano più cavalli, non sponano più cavalli, spiegatemelo eh, spiegatelo, guardate, ditemi perché, se sto in commento vi prego, perché non sono più queste cose, che cavallo, uffi, 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 voglio fare colpire da uno, ah, togli un cuore, togli un cuore, vabbè, a mancine togliate il robot, caricate in testa, ragazzi, questo arco è abbastanza forte, uno fortissimo, perché guardate che cosa c'è, potenza 3 basta, qui potenza 4 io, torniamo a casa, cosa vi devo dire, perché ragazzi, torniamo a casa, sei su un animale, capito, che non c'è un cavallo, lo cecchino, lo cecchino, se ne è andato lui, lei, poi raga, io, sto cosa l'ho vista, mi sembra su un video, guardate, un tizio, che, cioè, ma è incredibile sto, perché a più di Minecraft non è che ce n'è molta, come voi sapete, però, proprio sulle mucche, raga, dovrebbero creare le mucche maschie, perché, voi direte, ma se si sposano tutte e due fam, sono tutte e due maschie, una maschie e una femmesca, prima, ragazzi, sentateci, tutti quanti, tutte le mucche del mondo fanno il latte, tutto il mondo di Minecraft, con la vita reale, no, e poi dovrebbero creare anche, semmai fosse, non so, ragazzi, e qui sta arrivando, quindi, raga, come potete vedere, un pochino funziona, però, io, raga, ovviamente, Pinky ce l'hanno rubato, ce l'hanno procedimento, ce l'hanno rubato tutte le fecole, non so cosa dire, vabbè, ci vediamo nel prossimo video, ciao, ciao.